Qui nella redazione di Jedi Visual, cross-medialità o reportage multimediale non sono concetti astratti, sono realtà quotidiana. Come si fa ad approfondire e a raccontare attraverso video, podcast, mappe interattive, infografiche, linguaggi diversi e su diverse piattaforme. È quello che facciamo ogni giorno ed è quello che faremo insieme in questo corso. Grazie a tutti.